Onorevole Pagano, lei ha ufficializzato qualche mese fa il divorzio con il nuovo centrodestra e oggi invece ufficializza il nuovo matrimonio con noi, con Salvini. Un matrimonio fatto con gioia, perché ci sono spesso matrimoni che sono costruiti per interesse. Non è sicuramente il mio caso, visto che avevo deciso di archiviare quella parentesi politica col mio precedente partito pensando di non fare più politica. Invece è accaduto che Salvini, col suo progetto Lega dei Popoli, mi ha convinto, nel senso più bello e più nobile del termine, un progetto nazionale che supera gli schemi precedenti, un progetto che vede in noi con Salvini un momento di ponte e che adesso arriva alla conclusione e sapendo bene e chiaro quali sono gli obiettivi. Difesa della famiglia, sacralità della vita, libertà di educazione, economia fondata sulla nostra italianità, quindi uscita dall'euro, quindi uscita dall'Europa come Brexit ci ha insegnato a essere assolutamente possibile e difesa della nostra identità culturale e delle nostre radici. Come vi state preparando alle prossime competizioni elettorali? Quali sono i suoi rapporti con la politica gelese? Io sto in questo momento costruendo in tutta la Sicilia occidentale perché ho la fortuna di avere un bravissimo collega che si chiama Angela Taguile nella Sicilia orientale, quindi io sono il secondo siciliano che arriva. Stiamo in questo momento spiegando il progetto, mi presento e spiego il progetto. Stiamo chiedendo agli uomini di buona volontà che hanno passione politica o che amano meglio ancora di più il nostro popolo siciliano a cimentarsi, abbiamo bisogno di classi dirigenti, la stiamo costruendo. Ci sono tanti che stanno venendo però ci sono le possibilità di fare veramente di più e quindi proprio per questo motivo l'appello anche a coloro che credono in un progetto di rinascita e di ricostruzione. Detto ciò io voglio anche dire che per quanto riguarda gli appuntamenti futuri ce ne sono tanti. In provincia no, in questa provincia di Caltanissetta no, ma in Sicilia tanti. Mi riferisco alle comunali di Catania, di Palermo, le regionali tra un anno. E' chiaro che abbiamo le idee chiare su come le dobbiamo affrontare questo argomento e quindi come vedete un progetto concreto. Grandi ideali, grandi principi, buoni sentimenti e concretezza vogliamo amministrare perché abbiamo dimostrato dovunque ha amministrato la Lega e ha amministrato bene. Se sono stato scelto e io sono stato convinto lo si deve sicuramente al mio vissuto personale ma anche perché ho dimostrato in passato di avere saputo ben amministrare. Di questo sono orgoglioso e ringrazio Salvini che ovviamente ha voluto tutto ciò. Infine, politicamente parlando, aggiunge immediatamente una pedina. A Gela il consigliere comunale Farruggia aderisce al partito. Sì, aderisce, però non dimentichiamo gli amici che c'erano. Antonio Giudice che è stato nel movimento noi con Salvini e che si è presentato quanti tempi erano difficili, ovviamente lo dobbiamo ricordare ma devo dire che ci sono tante altre persone e ne sentiremo delle belle nei prossimi mesi.